popolo rosso nero amici di youtube benvenuti alla casa del benzinero voglio innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla live di ieri sera ringraziare il surf sport voglio ringraziare i nuovi iscritti a questo canale invitare chi non l'ha ancora fatto ad iscriversi lasciare un pollice in su e attivare fondamentalissima la campanellina e gli aggiornamenti per restare sempre aggiornati sulle cacate che vi devo raccontare raga una cosa che a me infastidisce davvero davvero tanto è fare i paragoni dalla storia di una squadra la storia dell'altra e vi spiego il perché in questi giorni un tizio mi ha scritto un tizio un pisello di gomma mi ha scritto sotto un video che ho fatto di sfotto all'inda che è uscito dalla champions voi senza silvio berlusconi non avreste vinto un cazzo voi siete scesi due anni serie b voi dal 1940 fino al 1974 non avete vinto un cazzo ecco queste sono le cose che mi fanno davvero imbestialire perché io sono un pirla faccio i video sfottò prendo in giro quando perdete o quando l'inter juventus perdono le partite il napoli quello che volete ma io porto rispetto alla storia di tutti i club io ho rispetto ho rispetto e dico anche che milano ha due squadre con una storia gloriosa inter e milan sono l'orgoglio della città di milano quindi fare questi paragoni ma non farei paragoni neanche sulla storia del torino della sandoria ogni club ha la sua storia gloriosa e va rispettato quindi quando sotto il video mi scrivete queste cacate mostruose vi dico che siete dei coglioni perché è sbagliato fare questi paragoni perché sennò poi a me tocca dirvi non scherzate cugini sulla storia perché la storia poi c'ha i suoi numeri è lì da vedere e se guardiamo la storia del milan e se voi la sapreste perché quando uno mi scrive una caccata del genere vuol dire che la storia non la sa il milan ha vinto 18 campionati 7 supercoppe italiane 5 coppe italia 7 champions league 5 supercoppe europee 4 mondiali per club la vecchia coppa intercontinentale invece l'inter ha vinto vado a prendere il fogliettino perché la storia dell'inter non la so ma la sono dovuta segnare 19 scudetti 1 in più del milan 7 coppe italia 2 in più del milan 6 supercoppe italiane 1 in meno del milan 3 coppe dei campioni la coppa dei campioni la champions league è quella che ti fa essere la squadra non più forte d'italia perché fino al confine sono i gobbi ti fa essere la squadra più forte d'europa 3 cioè noi 7 voi 3 anche se era un triplete ma sempre voi 3 poi avete vinto 0 supercoppe europee questo vuol dire che ogni volta che partecipavate dopo che avete vinto la champions le abbuscavate poi cosa 3 mondiali per club come noi e poi avete vinto 3 europa league non scherziamo non è uguale la storia seppur gloriosa non è uguale quindi per concludere non rompermi il cazzo non scrivermi ste stronzate se no poi mi tocca farti un video di risposta il milan ha capito i suoi limiti sul mercato sa già dove deve intervenire perché se mentre l'acquisto di botman 90 su 100 servirà per sostituire romagnoli e l'acquisto di sanchez servirà per sostituire che si quindi sostituti per rinforzare ha già individuato il reparto debole del milan che lo dico anch'io oltre alla trequarti che anche quello bisognerà capire se bisogna prendere anzi sicuramente bisognerà intervenire e prendere un trequartista più forte come prendere una punta giovane e forte sul davanti ma dobbiamo assolutamente intervenire sull'esterno destro offensivo perché sala maker è eccezionale però in fase difensiva in fase offensiva ha dei limiti messias buon giocatore economicamente il riscatto ci costerebbe anche poco però il pacchetto non è dei migliori d'europa non ti fa fare questo salto di qualità il milan proverà a prendere il mio giocatore preferito su quello lì berardi il milan ha proposto 5 10 milioni di prestito più il riscatto a 20 milioni cioè totale 30 cucuzze vedremo se la realtà le fatti io riporto notizia che ho visto e che mi ha reso felice se arrivasse sarei la persona più contenta di sto mondo perché è un giocatore che secondo me su quel lato fa la risferenza ditemi cosa la pensate mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo domani sempre forza milan un'ultima cosa dimenticavo si dice che tra donna rumma e nema si sia stata una rissa raga con tutto rispetto so che non si fa però dopo la cazzata del genere se giocavo con donna rumma lo riempivo di mazzate sempre forza anche su questo ditemi la vostra